Ed eccoci al martedì di questa quinta settimana Ci raccogliamo, la scuola è ancora a distanza per i ragazzi E questo crea magari una complicazione nella vita delle famiglie Ma noi la sera vogliamo trovare un momento di sosta Un momento di respiro intorno davvero alla parola di Dio e alla preghiera E questa sera prima di entrare nella preghiera vogliamo vedere alcuni dei vostri vasi Che continuate a mandare insieme ai lavori della catechesi Insomma c'è un bel fermento nella nostra comunità pur essendo in zona rossa A distanza si può fare molto E allora entriamo nella preghiera di questa sera Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno Perdonami il male che oggi ho commesso E se qualche bene ho compiuto accettalo Custodiscimi nel riposo e liberemi dai pericoli La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari Amen Dal Vangelo secondo Giovanni Gesù rispose loro È giunta l'ora che il sia glorificato il figlio dell'uomo In verità, in verità vi dico Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo Se invece muore, produce molto frutto Quando si vede un film o si sta seguendo una serie tv O piuttosto una fiction in televisione Può capitare di usare questa frase Parlando con altri e dire Non fare spoiler Spoiler vuol dire anticipare Anticipazioni di come andrà a finire Di quello che succede O magari di una puntata che non ho ancora visto Ecco, questo spoiler ci può aiutare A capire meglio il Vangelo di questa sera Perché in fondo Gesù cosa fa stasera? Fa un po' lo spoiler di quello che gli sta per accadere O meglio, legge quello che gli accadrà dentro un'anticipazione Un'immagine L'immagine del chicco di grano L'abbiamo appena sentito Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo Se invece muore, produce molto frutto E allora è bello rileggere le esperienze che stiamo facendo con i nostri vasi Con quel vaso che ci ha accompagnato e ci accompagna di sera e di sera Dove il chicco di grano morto nella terra rinasce a vita nuova Ma questo chicco di grano non è solo il prodigio della natura Ma è Gesù che morto risorge E allora questo ci aiuterà a vivere la Pasqua in maniera eccezionale La logica del chicco di grano Gesù ci fa questo spoiler del finale Ma dove già anticipa un po' tutto di quello che vorrà dirci nella sua Pasqua Signore, aiutaci a credere in Te Non per l'idea che abbiamo in testa Per l'immaginario che ci siamo costruiti Per l'emozione di un momento Ma disposti a perdere la nostra vita Per servire fedelmente la vita che accade Certi che, solo così, produrremo molto frutto Amen Preghiamo per tutti gli anziani e i nonni della nostra comunità Affinché non si sentano soli in questo momento difficile Padre nostro che sei nei cieli Sia santificato il tuo nome Venga il tuo regno Sia fatta la tua volontà Come il cielo e così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonarci alla tentazione Ma liberaci dal male E raccogliendo queste preghiere Che state mandando Ma anche tante preghiere Che sicuramente ciascuno di noi ha Nelle proprie case Magari guardando quel vasetto Che stiamo coltivando Con attenzione anche dentro casa nostra Il saluto ai bambini e alle bambine Del terzo anno Che hanno i tuoi sacramenti E quindi ci impegnano ancora di più Per la preghiera Nella preghiera per loro Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio E Spirito Santo Amen Buona serata a tutti In questi giorni Continuiamo a raccogliere dalle vostre case Alcune vostre preghiere Potete mandare un video Mi raccomando registrato in orizzontale In cui dite un'intenzione di preghiera Come singoli O come famiglia Oppure potete scriverci il testo di una preghiera Che i catechisti poi leggeranno Dove? Al telefono dell'oratorio Cosa aspetti? Mandaci la tua preghiera E buona quaresima! Come la luce illumina ogni cosa La tua parola rivela a noi il tuo volto Come la pioggia scende nella terra La tua parola entra nel nostro cuore Gloria a te o Cristo Verbo di salvezza Gloria a te o Cristo Parola di Dio per voi Grazie a tutti La tua parola rivela a noi il tuo volto